ok ragazzi madrisio immagine moda ciao annalisa non anna non lisa ma annalisa ok e cecilia ceci lo stavo come un altro modo allora non pensavi che venivano io sono in campagna sono piccoli noi veniamo dappertutto non abbiamo limitazioni se possiamo nel tempo infatti sono così tirato ma vengo lo stesso ma vedi siamo nel nulla qua siamo nel nulla nel verde ma volevo dire che siamo nel verde abbiamo belle piante respiriamo bene sì mi fa piacere che siete venuti perché insomma non pensavo è un onore per noi essere accolti perché intanto i ragazzi hanno anche sciabolato le bollicine quindi certo è poco è poco perché eravate impegnati e noi abbiamo fatto fare un altro giro già chiediamo scusa a Conegliano che arriveremo mezz'ora in ritardo allora intanto numero uno qui perché è il parcheggio che entro con la macchina io sono molto sensibile noi abbiamo il parcheggio qui privato anche un campetto giardino che si può parcheggiare la tranquillo si qua c'è posto poi siccome adesso con col virus non possiamo avere tanta gente può sedersi fuori girare possiamo lavorare anche più di due persone dentro perché abbiamo a riaggiato bene la pulizia quella è sempre stata sovrana dei parrucchieri cioè nel senso si proprio indispensabile in questo momento proprio di più lavoriamo bene devo dire che noi abbiamo aumentato il lavoro ecco non sei la prima che me lo dice che abbiamo aumentato il lavoro e chiedono più cose specifiche più particolari e vengono per questo una volta una volta in meno ma quando vengo ma quando vengo faccio una cosa particolare ok allora abbiamo ceci l'ho fatta già diventare ceci allora questo splendido colore fatto tuo per la tua grazie lei ah la zia io la cambio ogni settimana non lei ma il colore il colore il colore no lei è già posto così come hai fatto qua qua le abbiamo fatto un degradé con dei colori vari colori sull'arancio è usato vai vai io ho usato un dei colori rame colori biondo scuro rama tutto a base del rame e il biondo scuro alla base risultato tutto cartina tutto tutto cartina tutto cartina tutto a cartina tutto tempo dio diciamo su una testa così due orette ma neanche ma neanche perché noi poi lavoriamo e veloci tu sei soddisfatta molto molto quindi ti presti a cavia del salone testimonia e ambassador esatto e io non posso perché ormai alla mia età posso solo io men che meno però lei voglio che sia sempre ordinata e lei è sempre ordinata con tagli nuovi extension lunghi corti e le clienti apprezzano la tua ambassador allora tu da dove vieni fuori virgolette cioè hai fatto una scuola se vi stare oppure sei cresciuta qui racconta sono cresciuta qua poi da piccola le tiriamo su da piccole poi ho fatto loyal a udine la scuola di parrucchieri e poi finita la scuola iniziato subito a lavorare qua con la zia con la zia ottobre sono sette anni già continuo con lei continuo con lei soddisfatta mi raccomando non abbandonarla ma farla crescere esatto esatto ha fatto corsi di che hai fatto le accademie di che hai fatto quello che ho speso ho fatto diverse accademie sì e da sola e anche con lei poi tu quante ne fatti le accademie tu le hai creati tu le accademie sì e io sono stati tanti anni socia del cacf fin quando è chiuso che quello era indispensabile per noi parrucchieri perché ci siamo trovati per me per me era indispensabile poi ci siamo trovati così così abbiamo trovato parrucchierando che è un po ci riunisce un po per uno c'è la sua croce sì e poi ho fatto con l'onghera svidal sasson so girato io ho avuto una passione da piccola hai detto via sasson quindi taglio qua andiamo nel mondo del taglio sono un appassionata del taglio sì sì io uso tante tecniche in un taglio solo non mi fermo perché uno fa una tecnica si ferma lì poi ci metto del mio è quello che le dico sempre a lei quella è la base però tu dopo devi giocare dentro come una sarta che fai un ricamo in più personalizza il suo personalizzare il tuo taglio perché verranno da te perché tu fai questo brava assolutamente c'è proprio cucci una cosa sartoriale sulla prima dipende dal viso dal colore della pelle anche per i colori non è detto che tutti stanno bene con quel colore perché va di moda no assolutamente e devi anche convincere la cliente perché magari vengono voglio rosso voglio il nero però magari non è il suo allora io non vendo né shampoo né colori io dico questo cappello ha bisogno di questa cosa tu staresti bene con la frangia corta però se non sei convinta non farla ma ricordati che tu con quel viso lì con quelli occhi lì stai bene con questo tipo di taglio due volte dopo viene e taglia io non insisto qualche volta però sì mi prendo la mano di tagliare un po più corto però qua siamo andati corto però l'abbiamo customizzato adesso lo vediamo anche da dietro adesso non eri preparata che arrivassimo se no lo so però no e dopo è così coi prodotti io non li vendo ognuno fa quello che crede però io le dico qua tu hai bisogno di ristrutturare ricordati che a casa devi fare questo questo e questo perché se a me insistono tanto non prendo allora io spiego cosa le serve noi vendiamo tanto vendete un certo senso la formazione educati per rendere felice le vostre clienti esatto sono tutte contente ok allora covi siamo qua tutti mascherati lo chiedo sempre in tutti i saloni l'ho chiesto a trappani e lo chiedo adesso antona di udine quindi siamo ai due estremi dell'italia com'è sta andando la percezione soltanto abbiamo una signora che aspetta sì dio diciamo che dà un po di fastidio però siamo abituati adesso ormai fa parte fa parte bisogna fare così e si fa così qualcuno magari tante volte la tira rondola ecco allora le dico per piacere se puoi tirarla su perché abbiamo già avuto anche i controlli quindi vengono anche qua come dici tu in campagna vengono qua prima di tutto qua prima di tutto noi abbiamo controlli sempre voi siete super lì siamo tranquilli perché lei lei è lì già il dove guarda che c'è no no io non conosco neanche le macchine sulla cerca mi hanno spara flashato per la terza volta oggi con il termometro quindi sono l'uomo più controllato d'italia in questo momento tra le tre alle quattro volte al giorno sempre allora il cavallo di battaglia del salone perché devo scendere il taglio me l'hai già detto facciamo seconda scelta ondulazioni permanente i tipi sì sì quindi permanente 2020 i ricci capelli lunghi corti ecco l'ondulazione cosa usi tu per la permanente io uso svasco e mi trovo molto bene e poi altri prodotti ma soprattutto svasco mentre tu sei da permanente da liscio da crazy tu vai da crazy perché largo i giovani no se vogliono sperimentare a me piacciono molto i colori e quindi io gioco sui colori e basta normali virgolette passami il termine oppure diretti ti piace allora normali ma anche diretti poi dipende dalle persone perché non tutte si prestano appunto perché vogliono come me però non si prestano non si prestano quando il coniglio vogliono a casa poi vengono qua però insomma il problema maggiore cos'è il mantenimento oppure semplicemente guardarsi allo specchio io penso il mantenimento perché magari loro pensano sia un costo in realtà invece no c'è comunque tra l'altro i diretti di oggi virgolette scaricano molto bene se non virano più passo c'è se fai messi un certo modo certa manutenzione passano da queste tonalità pastello che stai bene sia il primo giorno che dopo e dopo 30 esatto alla fine però sempre questo un altro colore però diciamo che anche schiarendo lavandoli tanto sono belli anche dopo schiariti e svuotati dal colore hanno la loro identità sì esatto esatto se sono ben fatti e usando il mantenimento giusto non voglio sentire gente che shampoo usato quello che avevo a casa no 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 io mi arrabbio quando dicono così perché vuol dire rovinare tutto il nostro lavoro perché dopo dicono e magari non mi sono stati perché sono un po che hai usato che shampoo marca che shampoo la brevettiamo che shampoo ragazzi evitare ecco bisogna usare un shampoo adatto il tuo capello idratante per capelli sfruttati questo non serve chissà che roba ma che sia adatto il suo capello al suo capello non può essere un capello un shampoo normale per un capello trattato qualsiasi allora siamo in chiusura io devo scappare ho pochi punti patente quindi va bene tanto anche tanto salone per il taglio questo è il punto giusto salone per i colori se volete una marcia in più abbiamo ceci che vi porta lei esattamente dove volete è anche oltre laddove l'uomo non è mai stato prima la donna lei è brava è bravissima lei era piccolina 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 che girava per il negozio e cominciava a tagliare le bambole tutto allora c'è una c'è una predestinata come si dice ok pronta a colorare il mondo va bene ricordiamo dove siamo colorare il mondo bella dove siamo noi siamo a madrisio via santa radegonda 1 bar a 3 varmo udine ragazzi professionalità cortesia e tantissima simpatia e c'è anche posto parcheggio numero 1 ciao a tutti ringrazio tanto un bacio ciao a tutti ringrazio tanto un bacio Grazie a tutti